Ti piacerebbe sapere quando è il momento giusto per sostituire la tua rete doghe? Bene, allora sei arrivato nel posto giusto, perché lo scopriremo insieme in quattro semplici e rapidi passaggi. Prima di questo, ti consiglio di iscriverti al mio canale YouTube, cliccare sulla campanella, per non perderti tutti gli aggiornamenti su questo e tanti altri argomenti che ti potrebbero interessare. Se ti piacerebbe sapere se la rete è al tuo letto, magari da cambiare, oppure capire quando è arrivato il momento per sostituirla, probabilmente significa che quel momento potrebbe già essere arrivato, credimi, ma andiamo a scoprire il perché. Innanzitutto, se la rete del tuo letto funziona bene e ti permette di riposare senza pensieri, probabilmente questa domanda non te la sarà mai posta. Per questo ti dicevo che se ci hai già pensato almeno una volta, probabilmente magari avrai almeno un valido motivo per mandare in pensione la tua vecchia rete, vero? Ma perché? Perché per esempio il tuo letto con la sua rete potrebbe non essere più perfettamente adeguato alle tue necessità. Magari semplicemente hai una rete fissa e ora te ne serve una che possa sollevare gambe schienale, indovinato? Oppure magari potrebbe essersi rotto, oppure diventata talmente rumorosa che non vedi l'ora di rimpiazzarla con una rete nuova per tornare a riposare nel silenzio, nella calma. Allora come fare? Dunque, sostituire la rete non significa necessariamente dover cambiare tutto il letto, fidati. Il più delle volte basta semplicemente eliminare la vecchia rete inserendone una nuova. E questo ti basterà per rinnovare il tuo letto in una delle parti più importanti. Dico bene? Ora, non ti voglio spiegare qui come scegliere la tua rete, ma se ti interessa saperlo ti posso segnalare un articolo sul mio blog nel sito www.savoldi.net che si intitola 5 consigli utili prima di comprare la nuova rete elettrica. Questo articolo ti aiuterà a fare la scelta giusta, rapidamente e senza dover necessariamente diventare un esperto. Ma prima di tutto, vediamo come capire in quattro semplici punti se la rete del tuo letto è da sostituire e quindi sia arrivato il momento di comprare una nuova. Quindi, punto numero uno. Quando i supporti portadoghe della tua rete sono per la maggior parte eccessivamente vecchi, logori, screpolati oppure essiccati? Perché la sostituzione di tutti i supporti potrebbe essere davvero costosa, credimi, oppure potrebbe anche non essere possibile. Nel caso in cui dovessi magari decidere per risparmiare di sostituire solo alcuni supporti, sappi che non potrai mai avere la certezza che i supporti rimasti prima o poi non si spezzino, costringendoti poi a comprarne di nuovi e quindi spendendo altri soldi per una rete vecchia. Quindi cambiala. Numero due. Se la tua rete fosse di tipo a maglia metallica, cioè quella su cui saltavano i nostri genitori da bambini, per intenderci, ecco, sappi che fa parte di una generazione di reti che ormai è ampiamente superata. È precedente alla rete ad oghe, quindi non è adatta ai materassi attuali, non è adatta neppure alla tua schiena, credimi, cambiala. Numero tre. Se hai una rete in legno e la sua struttura, oppure anche le doghe in legno iniziano a scheggiarsi e lo noti soprattutto perché iniziano a rovinare la fodera del materasso. Ecco, è meglio cambiarla, fidati, anche perché oltre che danneggiare il materasso, ti espone al rischio di prendere schegge nelle mani e nel corpo. E queste schegge, credimi, non saranno per niente sterili. Numero quattro. Levi il materasso. Allora, se le doghe della tua rete, solitamente nella zona lombare, ma non solo, sono curvate verso il basso anziché verso l'altro, essere dritte. Ecco, forse non avevi comprato un prodotto di qualità eccelsa. E siccome passiamo un terzo della nostra vita a letto, magari ti meriteresti qualcosa di meglio, quindi cambiala. E se dopo aver portato a casa magari la rete nuova ti serve qualche consiglio su come metterla dentro al vecchio letto, beh, a questo punto puoi leggere l'articolo sul mio blog che si intitola come inserire una base elettrica in un letto preesistente. Molto bene, spero che ti sia tutto chiaro. Comunque se ti fosse rimasto qualche dubbio, oppure se hai bisogno di altre informazioni, mi puoi contattare dal sito www.savoldi.net dove trovi il blog Reti materassi e fai da te che ti parla di tutto questo, ma anche di molto altro. Pure chiamami anche oggi se vuoi allo 0363 40703. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando condividilo sui tuoi social, inserisciò nel tuo blog e soprattutto iscriviti al mio canale YouTube e metto un mi piace. Allora ti ricordo che mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti. Come sempre cerca Savoldi il tuo falegname di fiducia. A presto!